segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora questa era giorgia meloni poi adesso avremo quindi modo di confutare eventualmente o di confermare le affermazioni della presidente del consiglio ma prima una piccola lezione di storia perché giulio tremonti non la prendo in davvero lo faccio con grande ammirazione perché io per prima l'avevo letta questa cosa poi me la sono dimenticata quindi lei fa bene a ricordarcelo ci chiedeva durante la appunto le parole di ognuno gemelloni se noi ci ricordavamo e sapevamo da dove veniva la parola accisa io so che viene dal latino ma non mi ricordo altro dunque ho fatto il classico ma male come al solito accisa e incisa più o meno ed era un modo per prelevare le tasse e tu passavi una porta di città con un tronco ti segavano un pezzo di tronco o un salame o un passo di montagna un sacco di grano incidevano era un modo di prelievo fisico sulla cosa che veniva inserita in città trasportata incisa era questo quindi tu ripeto avevi un tronco te ne segavano un pezzo ecco e così via poi quando si è trattato delle imposte fisiche per fortuna non ti tagliavano una mano poi tutto si complica per esempio poi le cose vengono anche pesate allora quando è brutto tempo le cose si appesantiscono per la pioggia e da lì nasce piove governo ladro questa è meravigliosa questa è meravigliosa con questa direi che possiamo iniziare molto bene no invece